Vadovi, vadovi, vadovi Cioè anche oggi Ancora più incredibile Ancora più Più con pathos Vabbè c'è La motociclipi ragazzi è qualcosa Cioè pure sto circuito che Che la rende ancora più speciale Cioè vabbè veramente Di tutto, di tutto è successo Mamma mia che gara, no adesso Faccio elenco di tutti i piloti, tutti quanti Allora, primo Bagnaia Che gli vogliamo dire, già che sta pista se l'è tatuata Eh, sappiamo che avrebbe vinto Martin Cagati sotto Quarta vittoria di fila, è arrivato a meno dieci Meno dieci Tu ci hai provato Martin Ma meglio non puoi fare, meglio non puoi fare Basta Signori, poi La questione podio è assurda Cioè io non ho veramente capito un cazzo Marquez e Di Gian Antonio che frenano a caso Per strategia Non si è capito Marquez Ma no Soprattutto Marquez Che poi alla fine rescia di va terzo Perché Maverick sbaglia Maverick e Bastini Ne hanno approfittato Si sono messi davanti Cioè l'unici che hanno giocato normalmente Che hanno gareggiato normalmente Senza fare strane cose Tipo lui e Di Gian Antonio Che pure ha frenato Che cavolo Cioè Quindi Bastini terzo È buona Ha rimontato un'altra volta Però ormai il contratto Te lo sei giocato Te manca un po' a TM e basta Maverick appunto Si è un'ottima gara Ha approfittato Pepe Cano Peccato È l'ultimo Ha sbagliato Però ha fatto un'ottima gara Ha regalato punti a Marquez A Di Gian Antonio Che avevano fatto Cioè non ho capito veramente Che tipo di strategy hanno fatto Ma poi dovrebbero essere anche sanzionati Anzi Marquez dovrebbe essere sanzionato Perché ha frenato in mezzo alla pista Tu sei scemo Come Nutani Cioè È pericolosissimo Cioè non lo devi fare Per così bignale Se Di Gian Antonio non si soppiati Mamma mia Io Io Sta cosa che Marquez fa in due ali ufficiali Io ragazzi la vedo veramente male Quali tifosi sclerano Io me ne fotto Perché io Cioè io me ne frego Del marchio Cioè io Intanto O Marquez o Martini Tutti due piloti spagnoli Marquez ragazzi Per me ha pagato Quello che c'è da pagare Nella sua carriera Lo so che è un uomo di merda Però diciamo Comunque l'ha pagata E l'ha pagata carissima Certo adesso Essere premiato Con la Ducati Comunque ci aiuta adesso all'Italia Cioè Ha tolto un mondiale a Rossi Potrebbe riportarlo Con la Ducati Pensate questo Vabbè Basta Marquez Quindi Un po' ti ho detto Un po' di Gian Antonio Sì Marquez di Gian Antonio Vignale Squinto Sesto arriva a Binder Perché a Costa Cade all'Utria Ma Diciamo Aveva sbagliato la gomma E stava comunque arrivato Arrivando settimo Cioè è un cazzo di fenomeno Però Certo Mi ci posso dire Mi ci piace per Pedro Guarda Io 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 Cioè In Germania Se non vince Perderà il record Di vincitore più giovane Nella storia della MotoGP Io spero che lo faccia Io amo Pedro Signori Diciamo Se lo fa Potrebbe diventare Veramente La più grande leggenda Non la diventerà Se non lo farà Vabbè Non fa niente Poi Diciamo Vabbè Le KTM Solite Cioè alla fine Sono leggermente peggiorate Comunque dall'anno scorso Cioè fanno massimo Top 10 Con Binder e Miller Vabbè A Costa e Fernandez Quelli su E Ducati ufficiale Detto Pramac Morbidelli Pfff Nata gara di merda Cioè Stavi a fa bene Che cazzo Cioè Inqualifica almeno No Sei calato Non lo so Non mi ricordo Che ho fatto inqualifica Però stava facendo gare buone Cioè Ma ho ritornato undicesimo Cioè ogni tanto Fa undicesimo Ogni tanto si mette tipo Sesto O solo inqualifica Io non mi ricordo Non lo so Morbidelli Non lo guardo più Perché cioè Non lo guardo più molto spesso Ve lo devo dire Ho perso proprio l'interesse A guardare Morbidelli Cioè Tanto Non si capisce E E poi Vabbè Quindi Pramac Ducati ufficiale VR46 Bezzecchi Ragazzi Ve l'ho detto Cioè Quest'anno se lo siamo giocati Lo continuo a ripetere Perché ha sbagliato Le cose Nei test Invernali E basta E qui è caduto Quindi vabbè Tanto ormai Questa stagione è da buttare Greschini Alex Marquez Nono Arriva sempre nono Eppure non in classifica Cioè il 9 È proprio il suo numero E Ducati Finita E l'aprilia Vabbè Alesch non ha partecipato Perché Si è rotto Mi piace per Alesch Cioè E vabbè E tre causa Sempre lì Vicino le Yamaha Le che appattiene Quindi poi il resto È tutto solido Quarta rara Quello che deve fare E Rins Caduto Ultimamente staccate spesso Pure lui penso Che avisce il maritino E le onda Mir godo Che è caduto E Marini Non godo Cioè io non capisco Ancora la scelta Che ha fatto Dovete spiegarmela voi E basta Zarco E Nakagami Non lo so Non li ho proprio visti E dovevo elencarli tutti L'ho detto all'inizio Va bene Dai Tessa prossima Martín Trema Tessa prossima